Oggi Marco mi ha chiesto come è fatta la Terra e io gli ho dato una risposta semplice, ma è rotonda. Per scoprirlo ci sono voluti secoli, secoli di calcoli, misurazioni, formule, teoremi, esplorazioni e ragionamenti molto complessi. Fineco è così, un sistema evoluto e complesso che dà solo risposte semplici, come un consulente per i miei investimenti, tutti i servizi di conto e migliaia di sportelli automatici per versare contanti e assegni. Fineco, la banca che semplifica la banca.